correnti più vantaggiose per chi compra. Allo stesso modo il mondo dell'antiquariato e dei tappeti è affrontato con grande attenzione, a partire dalla scelta delle aziende che illustrano le proprie offerte. Così come il mondo dei gioielli e degli orologi intende mettere in mostra l'oggetto classico, il materiale e la lavorazione di qualità tipici delle produzioni artigianali, le marche italiane e le grifi internazionali. Garanzia di un acquisto protetto, di grande soddisfazione estetica e di gratificazione personale. La programmazione di Studio Store seguirà anche l'evoluzione stagionale degli interessi del pubblico, adattandosi per orari e contenuti al cambio delle abitudini televisive stesse che nel corso dell'anno si verifica puntualmente. Insomma un modo aggiornato, chiaro e di qualità di offrire al pubblico contenuti informativi di uso quotidiano, dando agli investitori pubblicitari la certezza di una diffusione qualificata e posizionata, con una veste grafica netta e una linea musicale attenta e gradevole. La proposta televisiva di Studio Store sta in realtà tutta nel suo slogan, semplice e comprensibile, come vuole essere la rete. Informazioni utili e buoni affari ogni giorno, 24 ore su 24, su tutto il Nord Italia. Quaid, guarda 30.